Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Lucia e oggi vi presenterò Sua Maestà, la regina Maria Antonietta, da un'altra prospettiva, quella descrittaci dal giornalista e storico francese André Castelò nella biografia Maria Antonietta, che io ho in questa versione vintage della collana Grandi Biografie, edito Fabri Editore, del gruppo Rizzoli, ma che se avete la fortuna di trovare, e come io cercherò di lasciarvi qualche link giù in descrizione, è edito dal gruppo Rizzoli. Figlia di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena, Maria Antonia perché il nome di Maria Antonietta in realtà non è Maria Antonietta, ma è Antonia, alla nascita venne insegnita del titolo di Arciduchessa d'Austria e in seguito, per suggerire l'alleanza tra l'Austria e la Francia contro la Prussia e l'Inghilterra, venne data in sposa, ancora quattordicenne, al Delfino di Francia, il futuro Luigi XVI. Trasferitasi quindi in Francia, a Versailles, per sopperire alla solitudine e alla noia, nonché a un matrimonio tormentato e deludente, cominciò a vivere nelle frivolezze, dandosi a divertimenti piuttosto costosi, tra cui le corse di cavalli e soprattutto il gioco d'azzardo. La leggerezza del suo carattere insieme ai favoritismi e agli intrighi di corte fecero sì che Maria Antonietta si inimicasse buona parte delle grandi famiglie dell'antica nobiltà francese, che contribuirono non poco a diffondere maldicenze sul suo conto, soprannominata tra l'altro in modo spregiativo l'Austriaca. E anche negli anni di maggiore maturità, in cui avrebbe sviluppato maggiore senso di responsabilità e di riflessione, non riuscì mai a cancellare l'idea, nell'opinione pubblica, di essere una donna frivola, irresponsabile, assettata di lusso, nonché dissipatrice dei soldi, delle tasse dei cittadini. Durante la rivoluzione francese, ostile a ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, cercò in ogni modo di salvare la monarchia assoluta, anche attraverso vari contatti con personaggi moderati come Miravuo e Barnav, al fine di capire le informazioni dell'Assemblea nazionale e passarle all'Austria, nella speranza che questa potesse invadere la Francia e venire a salvarla. In seguito poi alla sempre maggiore ostilità da parte del popolo nei suoi confronti, soprattutto all'indomani del fallito tentativo di fuga a Varenne, Maria Antonietta insieme alla famiglia reale venne arrestata e posta agli arresti prima nel vecchio palazzo delle Tuglieri e in seguito nella torre del Tempio. Durante questo periodo di prigionia e in seguito alla caduta della monarchia divenne una madre e una moglie esemplare. A questo non bastò, infatti venne processata sommariamente e condannata per alto tradimento, seppur senza prove tangibili, venne condannata a morte per mezzo della ghigliottina, morte che Maria Antonietta ha affrontato piuttosto dignitosamente. Questa biografia di Maria Antonietta, poco conosciuta da noi in Italia, è soprattutto molto difficile da trovare perché è fuori produzione, io infatti l'ho trovata girovagando su Vinted così a caso e l'ho apprezzata moltissimo sia per quanto riguarda lo stile che per quanto riguarda l'accuratezza. Infatti Castelò ci dà una visione completamente diversa di Maria Antonietta e sicuramente alternativa rispetto ai luoghi comuni che caratterizzano questo personaggio storico. Non più una donna ingenua ed edita le frevolezze, ma anzi una donna piuttosto intelligente e capace tanto da poter manipolare il fin troppo debole marito Luigi XVI e fare così gli interessi dell'Austria, sua patria natia. A parte questo direi che questa biografia ha sicuramente il pregio di non andare a santificare né a esaltare la figura di Maria Antonietta, con il rischio di farne una rivalutazione estremizzata, anzi al contrario il giornalista francese né giustifica né tantomeno alleggerisce le colpe di Maria Antonietta e pur non restituendoci un ritratto di una regina tirannica non va minimamente a giustificare le sue azioni e questo sicuramente è l'atto più gentile che si possa fare alla memoria di Maria Antonietta. Vale a dire dire tutta la verità sul suo conto e restituendoci quindi in questo modo una figura più umana e comprensibile possibile. Del resto nell'intera opera Castelò cerca di mantenere un profilo piuttosto neutrale nei confronti della rivoluzione francese e delle sue vittime, mostrandoci il male di alcuni dei protagonisti della rivoluzione francese, ma nello stesso tempo cercando di stare comunque attento a non prendere posizioni troppo contrarie alla rivoluzione e questo sicuramente è un compito molto molto difficile da poter mantenere. Inoltre Castelò ci mostra come i livelli abbiano a poco a poco intaccato l'immagine pubblica di Maria Antonietta, ritenendo che comunque alcune delle accuse che le erano state mosse in questi livelli fossero vere, come ad esempio la presunta relazione con Fersen. La parte migliore è sul finire però, quando viene descritto tutto il calvario di Maria Antonietta che la porterà alla morte. In modo particolare a me ha colpito soprattutto la parte del processo e dell'esecuzione, tant'è vero che io ho dovuto interrompere più di una volta la lettura per le forti emozioni che mi hanno suscitato leggere tutto ciò che ha dovuto subire Maria Antonietta. Non ultimo l'accusa gravissima che le avevano mosso, cioè quella di aver avuto rapporti incessuosi con suo figlio. Dal punto di vista strettamente stilistico la narrazione è piuttosto scorrevole, nonostante la traduzione obsoleta, ma del resto questo è un testo che ha quasi 80 anni, e la traduzione degli anni Sessanta. E nonostante questa biografia rimane comunque un capolavoro del suo genere, perché fa emergere un ritratto profondamente comprensivo e umano di una figura decadente, quale è quella dell'ultima regina di Francia, appunto Maria Antonietta. Sicuramente in circolazione ci saranno biografie migliori e più moderne, ma questa sicuramente ha qualcosa in più, perché si vede che Castelò ci ha lavorato inserendo aneddoti e dettagli narrativi che denotano un vero e proprio approfondimento dei documenti storici, che hanno permesso a Castelò di dare vita ad una Maria Antonietta inedita. E questo è sicuramente uno degli aspetti che io premio di più in un libro, soprattutto se si tratta di una biografia. Quindi per questo e soprattutto per avermi dato la possibilità di vivere per un po' la vita di Maria Antonietta fino agli ultimi tragici istanti, io vi consiglio, se ne avete la possibilità, di leggerla, perché ne vale davvero la pena. Ora, prima di lasciarci, vorrei leggervi la lettera che, anzi, l'ultima lettera che ha scritto prima di avviarsi al patibolo. Questa è l'ultima volta che scrivo, sorella mia, e scrivo a voi. Sono stata or ora condannata, non a una morte vergognosa, che tale essa non è che per i delinquenti, ma per andare a raggiungere vostro fratello. Innocente al pari di lui, spero di mostrare la medesima sua fermezza negli ultimi istanti. Sono calma come se calmi quando la coscienza non ha nulla da rimproverarsi. Ho un profondo rammarico da abbandonare i miei poveri figlioli. Voi sapete che non esistevo che per loro e per voi, mia buona e tenera sorella. Voi che, per l'amicizia vostra, avete sacrificato ogni cosa per stare con noi. In che congiuntura vi lasso? Sono venuta a sapere che gli stessi difensori del processo, che mia figlia era separata da voi. Ahimè, povera figliola, non oso scriverle. Non riceverebbe la mia lettera. Non so neppure se questa giungerà a voi. Ricevete per loro due qui la mia benedizione. Spero che un giorno, quando saranno più grandi, potranno ricongiungersi a voi e fruire in pieno delle vostre tenere cure. Persino entrambi a ciò che io non ho mai smesso di ispirare loro, che i principi e il compimento dei propri doveri sono la prima base della vita, che la loro amicizia e la loro fiducia reciproca ne farà la felicità, che mia figlia senta come all'età che ha, deve sempre aiutare suo fratello con i consigli che l'esperienza che la avrà più di lui e la sua amicizia potranno ispirarle. Che entrambi sentano infine che in qualunque posizione possano venirsi a trovare, non saranno davvero felici che in grazia della loro unione, che prendano esempio da noi. Quanta consolazione ci abbia dato nelle nostre disgrazie e la nostra amicizia e nella felicità si gode doppiamente quando si può condividerla con un amico. E dove trovarne di più tenero, di più vero che nella propria famiglia? Che mio figlio non dimentichi mai le ultime parole di suo padre, che espressamente gli ripeto, non cerchi mai di vendicare la nostra morte. Ho da parlarvi di una cosa penosissima per il mio cuore. So quanto dispiacere deve avervi procurato quel fanciullo. Perdonategli, mia cara sorella, pensate che all'età che ha e a quanto è facile far dire a un fanciullo ciò che si vuole e perfino ciò che non capisce neppure. Verrà un giorno, spero, in cui egli sentirà ancora meglio il valore delle vostre bontà e della vostra tenerezza per entrambi. Mi resta da confidarvi ancora i miei ultimi pensieri. Avrei voluto scrivere fin dal principio del processo, ma oltre che non mi si lasciava scrivere. Le cose si sono svolte tanto rapidamente che in realtà non ne avrei avuto il tempo. Muoio nella religione cattolica, apostolica e romana, in quella dei miei padri, in quella in cui sono stata educata e che ho sempre professata. Nessuna consolazione spirituale, avendo da attendere, ignorando se qui esistano ancora preti di questa religione, senza contare che il luogo dove io sono le esporrebbe troppo, se vi entrassero anche una volta soltanto. Chiedo sinceramente perdono a Dio di tutte le colpe che ho potuto commettere, da che sono al mondo. Spero che nella sua bontà vorrà benignamente accogliere gli estremi miei vuoti, così come quelli che ho fatto da gran tempo ormai perché voglia ricevere la mia anima nella più grande misericordia e nella sua bontà. Chiedo perdono a tutti coloro che conosco e a voi, sorella mia, in modo particolare di tutti i dispiaceri che, senza volerlo, potessi avervi cagionato. Perdono a tutti i miei nemici il male che mi hanno fatto. Dico qui addio alle mie zie e a tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Avevo degli amici, l'idea di esserne separata per sempre e le loro sofferenze sono uno dei più grandi dolori che porto meco morendo. Sappiano almeno che, fino all'ultimo istante, penso a loro. Addio, mia buona e tenera sorella. Possa questa lettera aggiungere fino a voi. Pensate sempre a me. Vi abbraccio e bacio con tutto il cuore, così come quei poveri e cari figlioli. Quanto è straziante, Dio mio, abbandonarli per sempre. Addio, addio. Ora non mi occuperò più che dei miei doveri spirituali. Siccome non sono libera delle mie azioni, mi condurranno qui, forse, un prete che ha fatto il giuramento. Ma io protesto che non gli dirò una parola e che lo tratterò come un essere assolutamente straneo. Bene, il video è terminato. Se vi è piaciuto mettete un like e se avete letto altre biografie scrivetemele giù nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete già iscritte e di attivare la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!